Oggi è di moda l'astronautica Oggi è di moda, forse è una mania Per conoscere bene l'astronomia Non più guardare il cielo con il canocchiale Ma raggiungere lo spazio in siderale E per farlo si prova con i razzi In mille lanci e tentativi pazzi Prova e poi prova Che accadrà se una di queste prove ci darà la luna? Che? 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 Signore? Signori? Siamo sulla luna Calma, perché siamo i primi a mettere il piede sul satellite Potrebbe anche essere abitato Infatti lo è Salve, siete due seleniti? Vista, sono appena arrivati e già offendono Seleniti è chi? Lo scusi non è ancora pratico, sa? Siamo appena atterrati Come avete detto? Siamo appena atterrati Sulla terra siete atterrati Ma qui sulla luna siete allunati Impari a parlare Impari lei Uè, uè, uè Non alzi la voce, sa? Altrimenti le do un cazzotto che la faccio volare sul lunazzo di quella casa Oh, ma sul lunazzo, eh? Sul terrazzo vorrà dire Ma cosa vuole questo? Oh, che stamattina mi sono svegliato con la terra di traverso Oh, mh Con la terra che? Di traverso Voi li svegliate con la luna di traverso? Noi ci svegliamo con la terra di traverso Ma è una cosa terribile Lei non sa parlare Si dice lunnipile Basta, lei ci prende in giro Beh, basta In fondo mi siete simpatici, pace Pace Però ammetterà che lei è un po' stranino Per forza Siamo lunatici Ah, errore Si dice terratici No, no, no Quando uno è lunatico, è lunatico Sì, però il suo collega è più tranquillo Per forza Lui è del sud Altro temperamento Ah, allora è lunone Lunone a chi? Ma tu senti chi parla? Pula in tum Cruco di un cruco Beh, insomma, signori Basta con le discussioni Sono due ore che ci sbarrate la porta Ci lasciate passare Sì o no? Mai, mai, mai Mai vi lasceremo calpestare il nostro suolo Con i vostri piedi sacrileghi Ma che sacrileghi? Vi chiamate sacrileghi? Guardate queste scarpe Oh, belle Con che cosa le lucida? Ma è chiaro, no? Le lucido con marga Marga Per esperienza di tecnici Purezza di materie prime Perfezione di procedimenti Marga è sempre il preferito tra i lucidi E assicura durata e lucentezza alle vostre calzature Il mezzo secolo di affermazione e di progresso Costituiscono una garanzia per i consumatori di marga Ricordate e chiedete Marga